cari amiche e cari amici in questo articolo di l'amendola sentirete nominare marangoni a molti non dirà nulla questo nome però prima che divenisse famoso sgarbi marangoni insieme ad argan e a pochissimi altri era considerato tra i maggiori critici di arte e diede un contributo notevolissimo alla cultura italiana marangoni e non solo riguarda la storia dell'arte ecco detto questo vi leggo l'articolo di francesco l'amendola intitolato l'arte brutta è anche immorale che che ne diga hegel con le sue lucubrazioni le sue fumisterie sulla fine dell'arte bella l'arte brutta è un controsenso perché l'arte è espressione del sentimento del bello che è innato e che costituisce uno dei pochi punti di riferimento certi e sicuri in tutta la pericolosa navigazione della vita umana perciò l'arte brutta è un controsenso una contraddizione logica se è brutta non è arte tuttavia ammesso che sia possibile o meglio ammesso che sia possibile spacciare una bruttura per arte ciò equivale a un'operazione che non è solamente antiestetica ma è anche immorale infatti celebrare il brutto il deforme il patologico l'aberrante il disgustoso come fanno tanti sedicenti artisti poeti musicisti eccetera significa andare frontalmente deliberatamente contro uno di quei pochi fari che brillano nel buio della notte dell'esistenza ossia il senso estetico dell'uomo e più precisamente il suo bisogno del bello la creazione di opere intenzionalmente brutte repulsive presentate però soprattutto dai critici come artistiche pertanto va contro la morale e si configura come qualcosa di diabolico nel senso letterale del termine qualcosa che mira a ridestare il fondo fangoso abominevole che giace per fortuna addormentato nelle caverne più oscure ed abissali dell'anima umana ma guai a stuzzicare il mostro addormentato potrebbe ridestarsi le conseguenze sarebbero terribili ciò è precisamente quanto accade in un rito di magia nera si evocano le forze sataniche e le si per fare il male di qualcuno senza però considerare che la prima vittima di tale sortileggio benché possa non apparire subito evidente è proprio lo sciagurato che a quelle forze ha fatto appello se si riflette al potere che hanno gli artisti i poeti gli scrittori il potere che hanno i musicisti i cantanti nell'orientare e definire l'immaginario collettivo nel costruire la percezione del mondo che hanno le persone nella nostra società potere che non va affatto sottovalutato perché il fatto che la nostra società si suole definire tecnologica non muta la costante da noi ricordate cioè che l'animo umano è naturalmente portato a cercare la bellezza e se invece del bello trova il brutto che gli viene fatto però passar per bello o comunque per artistico finirà per adattarvisi per nutrirsene in mancanza di altro si comprenderà facilmente quale immensa responsabilità gravi sulle spalle degli artisti e quanto sovente essi abusino del potere di cui dispongono per far accontentare i gusti del mercato i quali nulla hanno a che fare con la sensibilità naturale delle persone e aggiungiamo per scrupolo di chiarezza benché ciò dovrebbe essere non necessario delle persone normali il fatto è che la società moderna proprio per le caratteristiche costitutive della modernità non alimenta estinti sani normali della gente ma troppo spesso quelli malati aberranti paranoidi li stimola l'incolaggia riapprova li potenzia e in ciò sostenuta più che validamente dalla dilagante cultura del relativismo e dalla quella perfida forma di bassa maggianera che usurpa il nome di scienza e che pomposamente si presenta con l'etichetta di psicanalisi una di quelle tipiche costruzioni intellettuali della modernità le quali hanno acquisito lo status di verità rivelate e la cui conoscenza peraltro banalizzata e impoverita qualunque persona semicolta presuntuosa inconsapevole della propria ignoranza si sente di dover sbandierare ad ogni occasione per far vedere quanto è preparata scaltra assolutamente impermeabile agli inganni nei quali cadono invece individui comuni sprovvisti di tali e psicologiche raffinate conoscenze e se anche fosse solo questo il danno che la psicanalisi produce alla società ciò sarebbe più che sufficiente per proclamarne il bando perpetuo così come dovrebbe essere proibito citare darwin e a tutti coloro i quali credono di aver capito l'evoluzionismo solo perché hanno letto qualche libro divulgativo o assistito a qualche programma televisivo nello stile Piero Angela o citare Nietzsche a tutti i somari dovrebbe essere proibito che citano Zarathustra il superuomo la morte di dio pure se non si sono mai presi la briga di leggere personalmente le opere del filosofo tedesco e quel che più importa anche se non ci hanno mai capito un bene amato nulla osservava a questo proposito e le sue osservazioni pur giustissime fanno quasi sorridere fino a che punto è peggiorata ai nostri giorni la situazione da lui denunciata che già 60 anni sono lo muoveva a sdegno dicevo osservava un notevole critico e storico dell'arte nonché compositore Matteo Marangoni nel suo libro saper vedere come si guarda un'opera d'arte perché non esiste una censura scriveva perché non esiste una censura per il cattivo gusto perché deve essere lecito pubblicare oleografie più sdolcinate i romanzi più banali fissare nei dischi o peggio ancora trasmettere certe musiche volgarissime si risponderà al solito beh se queste cose vanno vuol dire che piacciono che esiste tutto un pubblico che li ricerca se ne ciba e ogni pubblico all'arte che si merita e purtroppo è così il livello medio del gusto musicale del nostro pubblico per esempio è ancora molto basso la grande maggioranza non apprezza che la pura e semplice melodia e il canto vocale tutta la musica strumentale polifonica gli è indigesta e quante volte ho visto chiudere con dispetto la radio a un pezzo pianistico oppure orchestrare per riaprirla con gioia al primo belato è davvero desolante questo perfido gusto del pubblico e non è meno desolante che non si faccia qualcosa di più per educarlo ma se ne coltivi quasi il vizio con certe banali filastrocche di canzonette e ballabili che gli può godersi alla radio dalla mattina alla sera e il fatto di musica per molti è forse anche questione di ignoranza e si potrebbe credo educarli al gusto migliore quando fossero costretti per mancanza d'altro a stare a sentire soltanto musica buona per quanto ciò potrebbe essere magari una rivelazione la sinfonia incompiuta di schubert non è forse divenuta popolare dopo il gran successo del film del regista austriaco willy frost angeli senza paradiso non si dovrebbe insomma seguire il gusto del pubblico bensì correggerlo già sento chi dice ma ognuno è padrone di avere il gusto che ha senza per questo offendere o nuocere a nessuno tutto ciò è al di là di considerazioni civili e morali ecco l'errore la vecchia mentalità così dura a morire è un errore considerare immorale soltanto quello che offende direttamente il nostro cosiddetto senso morale perché anche una brutta poesia una musica banale un quadro lacrimogeno sono immorali perché benché indirettamente assecondano lusingano favoriscono la pigrizia intellettuale il cattivo gusto il più rancido sentimentalismo delle folle così già affette da vizi di questo genere e nessuno potrà mai dire quanto questi veleni sottili e serpeggianti debilitano la psicologia e quindi l'anima di un popolo e si consideri che allorché marangoni scriveva queste riflessioni la televisione non era ancora entrata nelle case degli italiani la rai venne fondata l'anno dopo il 3 gennaio 1954 e da considerare anche che quando vi sarebbe entrata per un buon quindicennio i suoi intenti furono largamente didattici ispirati in ampia misura a una sana pedagogia che mirava ad educare il gusto del pubblico compresi i programmi destinati all'infanzia e quelli cosiddetti di intrattenimento e varietà e ciò valeva in qualche misura perfino per la pubblicità stessa tant'è vero che il carosello serale costituiva un innocente spettacolino per i bambini dopo il quale essi venivano mandati a letto e gli adulti restavano da soli davanti alla televisione dunque il zucco dell'argomentazione di matteo marangoni è che gli artisti che coltivano e coloro i quali li finanziano l'arte brutta se vogliamo chiamarla così tanto per capirci non dovrebbero veicolare un messaggio antiestetico per non recare danno oltre che alla sensibilità al buon gusto anche all'intelligenza e alla volontà delle persone perché è cosa troppo facile assecondare gusti peggiori del pubblico servigli quel tipo di prodotti che esso gratisce facendo leva sulla pigrizia intellettuale e aggiungiamo noi sulle tendenze istintive più malsane arrecando però danni incalcolabili alla sanità morale e all'intero corpo sociale ma l'ottimo professor marangoni non viveva ancora in un clima in cui si doveva tener conto della pronta ovvia risentita obiezione che qualunque intellettuale politicamente corretto gli rivolgerebbe oggi essendo convinto di essere in possesso di un gusto più raffinato e più maturo della massa del pubblico al punto da voler decidere lui cosa è meritevole di essere apprezzato in ambito estetico e cosa invece non lo è si ritiene forse il migliore più esperto degli altri e naturalmente il buon professore risponderebbe certo che sono più esperto ho dedicato tutta la vita allo studio dell'arte permettete che ne sappia un po di più di un idraulico il quale sarà certo più competente di me nel suo ambito ma non in questo però lui morto nel 1958 cinque anni prima che entrasse in vigore la sciagurata riforma della scuola media unificata ha avuto il privilegio di non vedere il trionfo universale del più demagogico egualitarismo di non dover assistere all'instaurarsi pieno e definitivo di una cultura che parifica ogni medito appiattisce ogni talento nella quale qualunque somaro pensa di essere aristotele e spalleggiato da tutti gli altri idioti suoi pari lancia i suoi altissimi ragli contro chiunque osi contraddirlo perché una tale opposizione sarebbe un reato di lesa democrazia e già ai suoi tempi le mamme non andavano a scuola indignate a chieder conto del perché la maestra abbia messo al loro geniale pargoletto un misero sette invece del meritatissimo otto né i padri si presentavano infuriati per picchiare il professore che avesse sminuito i meriti evidenti a chiunque abbia appena un po' di cervello del loro viziato e maleducato rampollo adolescente del resto erano i suoi colleghi critici e storici dell'arte che in larga misura si rifiutavano di umiliarsi e di magnificare le cose brutte solamente per piacere al pubblico dal palato grosso per cui tutta la società dal vertice alla base perché esisteva ancora un minimo di struttura gerarchica basata sul merito ed era un bene ebbene tutta la società svolgeva direttamente o indirettamente una certa qual funzione educativa e chi sapeva e capiva poco non pretendeva di montare in cattedra e dar lezione a quanti erano migliori di lui ma c'è un'altra ragione ancora per cui l'atteggiamento suggerito da marangoni oggi verrebbe bollato con parole di fuoco praticamente da tutti e presentato oltre al resto come esempio di lampante incomprensione della complessità del mondo moderno parola magica che permette sempre di scantonare davanti a un bel sì o a un bel no egli afferma che è sbagliato incoraggiare la pigrizia intellettuale che questo è un male e se è un male è immorale perché la morale non sa che farsene dei forze dei chissà e simili ma vuole stabilire o almeno tentare di stabilire cosa è bene e cosa è male lui dice che la pigrizia intellettuale è male e noi siamo pienamente d'accordo ma la cultura pseudo democratica oggi imperante che si serve dell'ignoranza per fomentare odio contro l'intelligenza all'obiettivo di imporre il totalitarismo della pigrizia in effetti più la gente è pigra intellettualmente e più resta campo libero al dominio dei peggiori in ogni ambito in cui vi sia da esercitare un po di potere dall'arte della politica dall'economia alla scienza ed è quel che sta accadendo l'incretinimento collettivo viene accuratamente pianificato e attuato al preciso scopo di eliminare ogni ostacolo alla dittatura dei più cinici dei più sfrontati dei più arrivisti e di quelli che hanno meno scrupoli di coscienza questo vale anche per l'arte gli artisti e quella casta di mercenari che è formata dai critici letterari cinematografici musicali e così via solo considerando questo aspetto si arriva a comprendere ciò che marangoni intuiva e contro cui metteva in guardia il fatto che la pigrizia è un vizio non è un comportamento neutro e puramente individuale la pigrizia di massa genera effetti nefasti sull'intera società dunque l'arte brutta che la incoraggia o la giustifica finisce per avere un impatto negativo anche nella sfera dell'etica non è male solo ciò che provoca direttamente il male ma è male tutto ciò che favorisce le condizioni affinché il male nasca prosperi e si estenda e via diranno a questo punto i signori del politicamente corretto che vorreste fare imporre l'inquisizione nell'arte e no di certo non si tratta di reprimere ma di affermare ciò che è bene e ciò che è male il codice penale non punisce tutto ciò che è moralmente male per questo ci vuole una coscienza vigile ed esigente anzitutto con se stessa la persona veramente etica infatti al contrario del cialtrone è più severa con sé che con gli altri bellissimo bellissimo bravo francesco bene cari amici un pollice su per il mio lavoro vi rimedio queste perle tutti i giorni e sempre incollati al decimo toro un caro abbraccio a tutti marco cosmo